Ciao a tutti, mi vedrete uguale al video di ieri perché questo pomeriggio è dedicato a girare i video, quindi è lo stesso momento del video di ieri, voi mi vedrete dopo 24 ore, però letteralmente ho finito di girare il video sulla NFC Ovest 5 minuti fa. Immagino che questo era sabato, quindi buon sabato. Bene, partiamo a parlare dei Panthers, quindi stiamo parlando della NFC South, in cui ci sono i campioni del mondo, ossia i Tampa Bay Buccaneers, a cui arriveremo dopo. Partiamo dai Panthers, i Panthers avevano una scelta, la scelta numero 8 al primo giro, che era stata molto chiacchierata perché i Panthers avevano un grande bisogno di offensive tackle e sicuramente sarebbe sceso Rashawn Slater, un ottimo, ottimo offensive lineman che ok era dopo Penny Swell, però se non ci fosse stato Swell sarebbe stato decisamente il primo di questo draft e molti analisti avevano dato Rashawn Slater come anche meglio di Swell, quindi era un'ottima occasione. Però i Panthers hanno deciso che volevano andare in una direzione diversa e hanno deciso di prendere un cornerback. Il cornerback era effettivamente un bisogno, hanno preso il primo cornerback, il primo giocatore difensivo di questo draft e hanno preso JC Horn. JC Horn non era stato speculato come il primo cornerback di questo draft perché quasi tutti gli analisti erano d'accordo che il migliore, il migliore a calo è il farlo e questo lo dico io, però che il primo ad andare sarebbe stato Patrick Surtain secondo. Infine no, JC Horn è un cornerback dalla South Carolina. Iniziamo subito a dire le cose negative. Il dubbio più grande che ho per JC Horn è il fatto che quando ha dovuto giocare contro squadre forti i wide receiver migliori gli hanno dato problemi quando li doveva coprire a uomo. Però è in generale buono per stare dietro ai wide receiver, è veloce, ha una buona tecnica di placcaggio e la sua capacità di analisi è davvero migliorata. Cioè è un giocatore che ci ha messo davvero molto impegno per migliorare, per essere a livello NFL. Quindi credo che sia stata una buona scelta da parte di Panthers. Secondo giro hanno preso Terrence Marshall Junior, wide receiver dalla LSU. Un wide receiver che probabilmente ha più talento di quello che abbiamo visto al college perché è stato schiacciato da Jamar Chase e anche da Justin Jefferson. Però statistica che è davvero impressionante. Ha una percentuale di contested catch rate, quindi quando deve prendere la palla con un cornerback che lo copre, lui riesce a prendere la palla nell'82% delle volte. Che è una ottima statistica che fa davvero sperare ai fan dei Panthers. Ha giocato sia esterno sia nella slot, ovviamente essendo in squadra con Jamar Chase e con Justin Jefferson. I Panthers hanno dovuto lasciare andare Curtis Samuel che è andato a Washington. Di conseguenza serviva un wide receiver. Secondo me questa è un'ottima scelta, credo che si inserirà molto bene insieme a DJ Moore che è stata la prima scelta del 2018. Credo che potrebbe essere un wide receiver 2 o uno slot receiver all'inizio che può diventare un wide receiver 2 col tempo. Terzo giro hanno preso Brady Christensen, offensive tackle dalla BYU. Come ho detto c'era bisogno di un offensive tackle, mi aspettavo che lo prendessero al primo giro, quindi il bisogno era impellente, ma non così impellente perché hanno preso Cameron Irving in free agency. Brady Christensen ha protetto il quarterback che è andato ai Jets, Zach Wilson, e va detto che quest'anno la BYU aveva un'ottima linea. Tutti quelli che potevano essere draftati sono stati draftati, tutti andati anche presto. Brady Christensen ha ottenuto un voto di 96 da PFF, che è il voto più alto mai dato a un offensive tackle. Quindi c'è tantissimo da amare in Christensen, un giocatore che deve crescere di peso per poter giocare da offensive tackle all'NFL, però una volta che è cresciuto di peso non c'è neanche bisogno di metterlo subito in campo, perché ha Irving che è preso in free agency, però una volta che lo metti in campo è il tipo di giocatore che non togli più, è il tuo titolare per la vita, quindi ottima scelta per Brady Christensen. Se per terzo round hanno preso Tommy Tremble, tight end dalla Notre Dame. Il tight end era un altro loro bisogno. Hanno preso un giocatore che non è un buon pass catch, non è un buon receiver, però è un ottimo blocker. È stato utilizzato poco comunque come ricevitore. È stato utilizzato molto di più per bloccare e aiutare la linea per aprire i buchi, per la corsa. Quindi hanno effettivamente un ottimo gioco di corsa i Panthers. Tanto hanno preso Chris Manners che era un ottimo blocker, quindi è solo normale che abbiano deciso di prendere Tremble. Quarto giro hanno preso Chuba Howard, running back dalla Oklahoma State. Ovviamente non stiamo parlando di un possibile running back 1. I Panthers hanno il miglior running back della Lega e non dico che uno dei migliori, dico il miglior running back della Lega, Christian McCaffrey. Quindi, visto che hanno lui, ovviamente Hubbard non sarà un running back 1, però visto che Christian McCaffrey non è particolarmente durevole e si fa male spesso, ha senso avere qualcuno dietro lui, senza contare che il running back è un ruolo estenuante, quindi non si può pensare di mettere tutto sulle spalle di un uomo solo per quanto veloce ed elusivo possa essere. Hubbard ha giocato in un sistema che gli ha dato una buona esperienza, lo ha usato molto. La parte forse più negativa che si vede dai film, dai suoi filmati, è il fatto che non resiste bene ai placcaggi, cioè nel momento in cui qualcuno placca lui va giù subito. Quinto round hanno preso Dayon Nixon, defensive tackle dall'Iowa. Sarà un backup, ma un backup immediato, cioè non si tratta di un defensive tackle 5, ma si tratta di un defensive tackle che potrebbe entrare titolare nel caso qualcuno si facessi male, cosa che ovviamente speriamo che non succeda. È ottimo per fermare contro la corsa. Ricordiamo che nella divisione dei Panthers c'è Alvin Camara ed è buono a generare pressione. Vi ricordo che i pass rush possono essere anche all'interno, quindi anche un defensive tackle può fare il pass rush. Ovviamente c'è un pass rush dall'interno e Nixon è buono in questo. Quinto round hanno preso Keith Taylor, cornerback da Washington, un giocatore che ha fatto un buon senior ball, ha impressionato Matt Rule in quel momento, un giocatore che gioca in modo molto fisico, molto aggressivo. Non ha molta esperienza, però comunque non sarà messo in campo subito, quindi si può fare la sua esperienza e comunque ha un buon potenziale. Sesto round hanno preso Deonte Brown, offensive guard dall'Alabama. I Panthers dovevano lavorare anche sull'interno dell'offensive line. Deonte Brown è una guardia che è stata messa sia a destra sia a sinistra, quindi ha esperienza in entrambi i posti ed è flessibile. Un giocatore molto grosso, molto pesante, un giocatore che non sarà titolare subito, che però preso così tardi diciamo che è un ottimo valore, contatta questa statistica molto interessante, cioè che in tutta la sua carriera universitaria non ha concesso neanche un sack. Sesto round hanno preso She Smith, wide receiver dalla South Carolina. Un giocatore che è molto tenace, ha la buona mentalità, ha delle buone mani, è buono a prendere la palla e a tenerla in mano nel tipo che ti fa farmball o che ti fa un drop. Ho controllato nella depth chart di ESPN, è stato messo come dietro a DJ Moore, comunque sarebbe un wide receiver 6 a questo punto, quindi non ci aspettiamo di vederlo molto, però ce lo aspettiamo magari negli special teams. Sesto round hanno preso un long snapper dall'Alabama Thomas Fletcher, che è un rimpiazzo per JJ Sensen che ha 35 anni. Un altro long snapper, ma secondo me ci sta a prendere special teamer di questo genere tardi nel draft. Non sono d'accordo con le persone che pensano che questi giocatori vadano presi undrafted, perché questi giocatori hanno un grande impatto nel gioco, e quindi è giusto dare loro il peso nel draft che serve. È stato definito come il miglior long snapper della Lega. Il problema è che non è l'unico long snapper che è stato definito come il miglior long snapper della Lega, del college. Di conseguenza vedremo quale sarà il migliore. Però interessante, lui ha vinto un premio, il Patrick Mannelli per il miglior long snapper del college football. Tifosi Panthers, avete il miglior long snapper di questo draft. Infine, ultimo giocatore preso dal settimo round, Phil Hoskins, defensive tackle dal Kentucky. Abbiamo visto che non c'è bisogno, hanno preso altri defensive tackle prima di lui, che già non sarebbero stati i titolari, quindi lui è un progetto assolutamente da far crescere. Non c'è molto da vedere per adesso, quindi vedremo cosa ne possono fare. Spostiamoci adesso dai campioni del mondo. I Tampa Bay Buccaneers hanno preso con il primo giro Joe Tryon, outside linebacker di Washington. I Buccaneers sono riusciti a portare indietro tutta la loro squadra l'anno scorso, quindi a questo punto sono davvero andati in modalità best player available per il draft. Di conseguenza hanno preso il miglior giocatore disponibile. Joe Tryon hanno deciso di lavorare sul loro pass rush, che già è molto buono. Non andrà ovviamente in titolare subito, però si può fare esperienza, imparare da alcuni dei migliori pass rusher della Lega, e poi sarà messo con calma magari l'anno prossimo nel line-up. Ha fatto solo un anno da titolare perché ha fatto opt-out nel 2020, però quando ha giocato le statistiche erano imprescindanti. Inoltre ricordiamo che Jason Pierre-Paul sarà free agent nel 2022, quindi l'anno prossimo. Secondo giro hanno preso Kyle Trask, quarterback dalla Florida. Del talento, del potenziale di Kyle Trask si è parlato molto, però è vero che la Florida aveva un'ottima squadra quest'anno, molti giocatori sono stati draftati, e quindi questo ha influenzato il fatto che Kyle Trask abbia avuto una stagione così positiva. Comunque si tratta ovviamente non di un titolare, ok anche è stato preso al secondo round, ma ha i Tom Brady, quindi Kyle Trask può imparare da Tom Brady. Fantastico, quindi per il prossimo uno o due anni Kyle Trask sarà in panchina, migliorà la sua tecnica. È un giocatore non particolarmente atletico, ma per questo non è che Tom Brady gli possa insegnare a essere particolarmente atletico, quindi non è lì, però gli può insegnare a migliorare il suo braccio, cosa che Tom Brady ha fatto mentre era nella Lega professionistica. Anche lui ovviamente non è entrato nell'NFL come il grande fenomeno. Ci sono stati dubbi sulla forza del braccio di Trask, però Arians ha detto che non ha dubbi su quello, ha detto che basta vederlo in partita per capire che il braccio di Kyle Trask è più che adeguato, e Arians adora mettere la palla in fondo al campo. Terzo giro hanno preso Robert Hainsey, offensive tackle dalla Notre Dame. È un giocatore che ha fatto, ha giocato come offensive tackle alla Notre Dame, ma che al signor boll è stato spostato all'interno, quindi come guard, come guardia, come centro. Credo che lo terranno all'interno, magari non serve immediatamente, perché hanno una buona offensive line, ma ha un buon istinto e ha un gioco pulitissimo. Credo che non abbia mai fatto penalità in tutta la sua carriera. Quarto giro hanno preso Genon Darden, wide receiver dal North Texas. Hanno fatto trade up per prenderlo, non perché ci sia bisogno immediato, perché ricordiamolo hanno Chris Evans, hanno Godwin, che è il mio preferito wide receiver all'interno dei Buccaneers. Inoltre hanno riportato anche Antonio Brown, quindi Darden sarà un pochino più avanti nelle file dei wide receiver. Subisce molti placcaggi dovuta alla taglia ridotta, però è abbastanza veloce, ha fatto 4,46 secondi nella 40 yard dash. È elusivo, quindi immagino che lo metteranno in gli special teams, vedremo lì cosa può fare e se nel futuro può arrivare a fare wide receiver 3, magari nella slot. Comunque è stato molto usato alla North Texas, è stato molto produttivo, quindi i Buccaneers hanno avuto una buona possibilità di studiarsi la sua tecnica. Quinto round hanno preso KJ Britt, inside linebacker della Auburn. È stato un capitano Auburn, è stato un middle linebacker, al momento non hanno bisogno ovviamente di un linebacker, però è stato molto buono al senior ball, quindi immagino che abbia un buon potenziale. Sarà messo per adesso in special teams perché è davvero un buon placatore, immagino però che se riesce a manovrare bene le cose, ovviamente adesso non serve nei fili dei linebacker, che sono molto profonde e anche molto talentuose nei Buccaneers, però il talento c'è anche in Britt, vedremo cosa potrà fare. Settimo round hanno preso Chris Wilcox, cornerback dalla BYU, un giocatore che è decisamente da special teams, dovuto alla sua velocità assurda, 4,31 secondi alla forte di Ardash, ragazzi per un cornerback, ma anche per un wide receiver è un grandissimo risultato. Devi migliorare la tecnica di placcaggio, però è buono nella copertura a uomo, e vale appena prenderlo anche solo per la velocità. Infine ultimo giocatore preso, Grant Stewart, linebacker da Houston. Non mi piace la sua tecnica perché non mi piace come placca, non mi piace come copre, però è energico, è veloce, non so esattamente cosa i Buccaneers vorranno fare, però immagino che lo vedremo se mai toccherà il campo. Spostiamoci adesso a Atalanta e parliamo dei Falcons. I Falcons hanno lavorato, basandosi sul bisogno, hanno lavorato sulla linea e sul secondario, quindi già questo positivo. Sono partiti con la quarta scelta assoluta e hanno preso Kyle Pitts. Kyle Pitts, talento generazionale, il tight end draftato più alto di sempre, quindi con la quarta scelta assoluta. Non si parla tanto soltanto di lui come tight end, ma tight end, wide receiver, la sua capacità di saltare è qualcosa di disumano e già lui è molto alto. È veloce, esplosivo, fluido, impossibile da coprire. L'unica parte in cui non è questo granché è come blocker, ma non credo che sarà utilizzato per bloccare, visto il tipo di fisico che ha. Di conseguenza, ottima scelta da parte dei Falcons. Immagino che abbiano intenzione di tenersi Kyle Pitts per tutta la sua carriera, quindi immagino che sia per quello che abbiano usato una quarta scelta su di lui, invece che investirla su un quarterback. Immagino inoltre che i Falcons siano all-in su Matt Ryan, di conseguenza vogliono davvero provare a vincere con Matt Ryan. Secondo giro hanno preso Richie Grant, safety dalla UCF, un giocatore che può fare sia da free safety, sia da strong safety. È stato il primo safety preso, il che è un pochino sorprendente, visto che c'è la Trevor Morig, che era decisamente meglio, ancora disponibile. Inoltre Grant era il mio terzo safety, nella mia classifica, dopo anche Javon Holland, ed era disponibile anche Javon Holland. Di conseguenza, la scelta di Richie Grant non la condivido tantissimo. È un ottimo safety, siamo chiari, è buono contro la corsa, anzi ha ricevuto un PFF, un voto PFF di 90 contro la corsa, è in grado di leggere difesa, ha fatto un buon Senior Ball. Infatti il Senior Ball è anche migliorato su uno dei suoi problemi maggiori, che era la copertura a uomo. Quando l'avevamo visto in partita, non è stata gran cosa, però il Senior Ball è stato decisamente meglio, il che ci fa pensare che può migliorare molto. Se migliora anche la tecnica di placcaggio, siamo a cavallo però con questo giocatore, questo safety, che credo possa avere un'ottima carriera. Terzo giro, hanno preso Jalen Mayfield, offensive tackle dal Michigan. Sorprendentemente che sia sceso così tanto, stanno ricostruendo la linea, vogliono aiutare Matt Ryan a vincere. Lo utilizzeranno come titolare, immagino come left guard. Lo so che lui è un tackle, però il suo fisico è meglio utilizzabile nell'NFL come guardia. Tra l'altro c'è un vuoto, sarà titolare da subito, che non è scontato per un terzo giro, ma Jalen Mayfield è sceso perché tutti gli offensive linemen sono scesi. Quindi è un terzo giro, perché è stato preso dal terzo giro, però il valore era da secondo giro anche alto secondo me, quindi un steal assoluta. È buono contro la corsa, è buono a proteggere per il placcaggio, quindi a creare buchi, è atletico, è agile. E tra l'altro, col fatto che giocava al Michigan, ha avuto esperienza contro alcuni dei migliori pass rusher di questa Lega. Stiamo pensando a Penn State, Ohio State, squadre con ottimi pass rusher. Quindi Jalen Mayfield è pronto per andare in campo. Quarto giro hanno preso Darren Hall, cornerback dalla Mississippi State. Un cornerback che può essere sia cornerback sia safety. Comunque credo che lo utilizzano come nickel, quindi come terzo cornerback in campo quando utilizzano cinque uomini nel secondario o come Dime anche possibilmente, quindi come quarto cornerback, come sesto uomo nel secondario. E in questi ruoli potrebbe entrare anche subito perché non hanno tantissimi cornerback, tantissimi uomini nel secondario a mettere in campo. Quindi se dovesse utilizzare sei uomini nel secondario, ovviamente lui potrebbe entrare in campo. Inoltre hanno preso sempre al quarto giro Drew Dahlman, centro da Stanford. Un giocatore buono per la corsa, ma non per il passaggio. E i Falcons sono più spinti per il passaggio, specialmente adesso che hanno preso Kyle Pitts. Hanno un ottimo corpo di wide receiver, quindi credo che dovrà migliorare per poter essere messo come centro in campo. Ma al momento non c'è bisogno di metterlo in campo. Quinto giro e questa scelta amasciata un pochino perplessa, è un defensive tackle, ma che è stato annunciato dai Falcons come defensive end, anche perché loro utilizzano una difesa 3-4, quindi ci sono due defensive end e un no-stackle. Decisamente non ha il fisico per fare il no-stackle, quindi sarà un defensive end, però non sono molto convinta di quanto sia in grado di fare da pass rusher, quindi come scelta non l'ho capita bene. Ok che ha fatto un buon senior ball, sarà lì che l'hanno visto, però non capisco tantissimo la scelta. I Falcons avevano comunque bisogno di aiuto come edge rusher, non credo però che lui sia la soluzione. Hanno preso, inoltre sempre parlando di pass rusher, Aritokumbo Ogundeki, defensive end dalla Notre Dame. È un buon valore per lui, è un ex capitano della Notre Dame, è un esplosivo pass rusher, quindi direi un passo avanti come pass rusher, però è un giocatore incostante, poco regolare, non credo che potranno non mettere neanche lui come titolare. Ovviamente stiamo anche verso la fine del draft, siamo al terzo giorno, difficilmente trovi di titolare a questo punto. Poi hanno preso Avery Williams, corner big dalla Boise State. Ha fatto un'ottima credenza in special teams, 9 ritorni portati per un touchdown, quindi 9 punt return, kick return. Non credo che arriverà mai in squadra per via delle limitazioni legate alla sua taglia, non è particolarmente alto, la taglia è ridotta, è leggero e ha le braccia corte rispetto ad altri cornerback, quindi non credo che abbia il talento da essere titolare in NFL. Infine, sesto round, ultimo giocatore preso dai Falcons, Frank Darby, wide receiver dal Arizona State. Ovviamente non hanno bisogno di wide receiver, però se Gage ha fatto un buon 2020 come wide receiver 3, ricordiamo che hanno anche Calvin Ridley, quindi immagino che, in realtà immaginerei che lo mettessero come special teamer, però ha fatto una forte dash in 4,59 secondi, che è lento, decisamente lento, è un buon pass catcher, ma un giocatore così lento non va bene per gli special teams, di conseguenza non sono molto sicura di come lo potrebbero usare. Infine ci spostiamo a New Orleans, ai Saints, che sfortunatamente non hanno più il loro quarterback titolare. Come bisogni dei Saints, io avevo messo tutta difesa, avevo messo cornerback, linebacker, defensive end e safety. Quindi mi aspettavo che andassero pesanti sulla difesa, cosa che hanno fatto specialmente all'inizio. Ricordiamo che inoltre i Saints credono nell'investire nelle trincee subito, anche quando non ne hanno particolarmente bisogno, e quindi non siamo rimasti sorpresi quando hanno preso un defensive end al primo giro. Siamo rimasti sorpresi quando hanno preso Peyton Turner invece da Houston, perché ci si chiede, non potevano magari fare trade down e prenderlo dopo? Il loro defensive end tra Hendrickson è andato a Cincinnati, di conseguenza c'era un buco, questo giocatore sarà titolare, c'era Jason Owe disponibile però, quindi è stato preso appena dopo Jason Owe della Penn State, di conseguenza davvero mi chiedo se c'era bisogno di prendere Turner in quel momento. Comunque è un ottimo talento, ha un buon fisico, i Saints in genere scelgono bene al draft. Secondo giro, contentissima per questa scelta, i Saints hanno preso Pete Werner, linebacker dalla Ohio State. A me piace tantissimo, mi piaceva quando ovviamente l'ho visto giocare alla Ohio State, e col fatto che mi piacciono i Saints come squadra, sono contenta dell'accoppiata. Pete Werner è un giocatore con un'ottima mentalità, lui si passa le ore e ore a studiarsi i film degli avversari per sapere contro chi sta andando a giocare. È scattante, è ottimo contro la corsa, è un buon placatore, è intelligente, molto intelligente, riesce ad analizzare bene la difesa. Non è elite in nulla, però è davvero solido, io sono contentissima di questa scelta. Terzo giro hanno preso Paul Sonadivo, cornerback da Stanford. Hanno fatto trade-up perché effettivamente hanno bisogno di cornerback, hanno perso John Harris Jenkins, ha fatto una buona 40 yard dash in 4,44 secondi, non è ideale, non è fantastica, però è buona, è solida, forse non è pronto, però lavorandoci un pochino potrebbe comunque entrare come cornerback 2 perché comunque hanno bisogno di un cornerback 2 in modo anche abbastanza urgente. Quarto giro hanno preso un quarterback, Ian Book della Notre Dame. A me piaceva l'idea che i Saints potessero prendere Kyle Trask o in alternativa Davis Mills, che secondo me è un grandissimo talento, Davis Mills. Ian Book ha una grande esperienza a Notre Dame, è il quarterback della Notre Dame più vincente di sempre, però Notre Dame aveva proprio una bella squadra quest'anno. Sean Payton, l'head coach dei Saints, ha detto che stanno cercando il futuro Breeze, il successore di Breeze, non lo so se Ian Book lo sarà, tanto quest'anno non lo vediamo giocare, quest'anno c'è Jamie Swinstow, però Jamie Swinstow non è una soluzione di quarterback di lunga data, hanno anche Taysom Hill, quindi non c'è spazio per Book per diventare uno QB1, ma va bene così, nessuno si aspetta che Book lo sia, deve crescere, deve migliorare, anche perché non avevo molte speranze quando l'ho visto giocare a Notre Dame, spero di sbagliarmi, spero che i Saints abbiano trovato qualcosa di speciale, però diciamo che se avessero preso Davis Mills sarei stata più contenta. Sesto giro hanno preso Landon Young, Offensive Tackle dal Kentucky, non ne hanno bisogno quest'anno, però ricordiamo che Teron Armstead e Ryan Ramchek sono free agent nel 2022, quindi l'anno prossimo, quindi vediamo un po' cosa possono fare con questo Offensive Tackle. Hanno fatto trade up per prenderlo perché è effettivamente un buon blocker, concede poca pressione, se potesse migliorare forse un pochino la tecnica, pulire un pochino il gioco sarebbe l'ideale. Ultimo giocatore preso, settimo round, Kawan Baker, wide receiver dalla South Alabama. Non credo che l'abbiano preso per giocare effettivamente come wide receiver, perché ha un problema di drop importante, però un giocatore atletico, tenace, immagino che andrà bene per gli special teams. In for the touchdown! What a run by Ian Book! Four and a half to go, third quarter. Book into a crowd! Only four-man rush. He finds the hole, and there's no one else there because the coverage is so tight. Atlantic at six sacks per game. Third and 14, Book steps into the throw. Up for goal! Like I ROSI Channel 婚房 Who Chenow Who Chenow Who Chenow Her Verb Yoga